Il prossimo brano è di un compositore olandese della seconda generazione, di circa 40 anni, si chiama Young Days. E' scritto questo part-parente, ispirandosi alle bande americane che facevano i concorsi di marcia, ma il concorso mondiale a Kerkrade, che è una cittadina olandese, che si svolge ogni quattro anni. Part-parente. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.